Il comune di Roseto degli Abruzzi per contrastare gli eccessi della Movida ha deciso di mettere in campo il servizio di vigilanza privata ad affiancare controlli già rafforzati delle forze dell'ordine e l'installazione di due bagni chimici. L'obiettivo è quello di aumentare la sicurezza e il decoro nel centro città, in particolare nel fine settimana. Un'iniziativa messa in campo anche grazie alla compartecipazione economica delle attività commerciali della zona, che attraverso una sponsorizzazione hanno deciso di contribuire per rendere più tranquilli i weekend in città. Dobbiamo mettere uno stop a quello che è una maleducazione ma soprattutto un non senso del vivere la quotidianità e soprattutto lo svago. Io credo che sia importante salvaguardare il commercio, salvaguardare i giovani ma anche le persone, le famiglie che vogliono vivere il centro città in maniera allegra, in maniera spensierata, in maniera giusta. Allora dobbiamo intensificare i controlli, lo abbiamo fatto all'inizio mio mandato. Ricorderete che la polizia locale ha intrapreso un percorso dalle 18 alle 1 di notte, cosa che non era mai successa. Un contatto costante con il comando dei carabinieri di Roseto, la convocazione tramite il suo eccellenza il prefetto del primo tavolo, il comitato sulla sicurezza pubblica, che si serrà l'8 marzo qui, ha già convocato nella città di Roseto. Ma da subito, dalla prossima settimana, grazie ai commercianti, grazie ai consiglieri comunali che mi stanno supportando, una vigilanza privata che andrà avanti fino alle 3 di notte, l'installazione di bagni chimici che daranno una possibilità di smaltire quelle che sono anche un po' le esigenze. Ci auguriamo che continui una movida sana, un commercio sano perché non dobbiamo punire coloro che invece si comportano in una maniera corretta. Ricorderete che qualche settimana fa sono stati fermati 6 minori che hanno aggredito un ventenne, prestandolo anche in maniera da micro baby gang, come potremmo dire. E allora le multe, le sanzioni sono previste ma c'è bisogno di una maggiore sinergia perché la sanzione sì, però bisogna anche riuscire ad intervenire in maniera tempestiva. C'è anche un servizio di videosorveglianza, abbiamo partecipato ad un ulteriore bando con la prefettura, stiamo cercando di rimettere in campo tante azioni, controllo, azioni diversive ma soprattutto una grande sinergia con tutte quelle che sono le forze in campo e ripeto, forze dell'ordine, amministrazione, commercianti ma anche cittadini.